Parte proprio da Fano col pretesto del dire no a un documento che prevede lo spostamento degli uffici amministrativi dell'area vasta da Fano a Durbino. È un falso problema. Gli uffici amministrativi devono rimanere a Fano perché non rappresentano lo strumento attraverso il quale si riorganizza il modello sanitario ospedaliero. Questo modello non funziona, non ne proponiamo un altro, che è un modello di rete negli ospedali della nostra provincia e della nostra regione del tutto simile a quello che si è già realizzato in Emilia Romagna o ad esempio in Umbria, che però il presidente della regione Ceriscioli sta in qualche modo sminuendo o contestando perché non possibile da un punto di vista normativo. Questo non è vero e ce lo dimostra l'Umbria. La vicina regione Umbria, che ha circa la metà della popolazione della nostra regione, 800 mila abitanti circa contro il milione e mezzo della regione Marche, mantiene circa 10 presidi ospedalieri con funzioni ovviamente articolate e differenti l'uno dall'altro, con dei pronti soccorsi, con due aziende ospedaliere, quelle di Perugia e Eterni, e con una serie di ospedali, ad esempio quello di Branca di Gubbio o di Pantalla o di Castiglione del Lago. Quindi la rete è possibile. Noi proponiamo questo modello e Ceriscioli non dovrà prendere atto. I cittadini ne hanno già preso atto con le elezioni del 4 marzo e hanno mandato la politica del regionale un segnale ben chiaro. Metterete appunto un documento con i vostri punti salienti. Che cosa ne farete? Stiamo valutando con i nostri colleghi sindaci del patto di Piaggio un nuovo documento da offrire come sollecitazione a tutti i sindaci. E ovviamente partiamo da quel no al modello dell'ospedale unico che ormai è superato nei fatti e quindi Ceriscioli non può insistere su questo modello di unico ospedale per tutta la provincia, ma lavoriamo su due ospedali di secondo livello, Fano e Pesaro, che possano rappresentare degnamente la sanità nella seconda e nella terza città delle Marche, che facciano rete con altri ospedali di primo livello, in modo particolare quello di Urbino e quello di Pergola, autonomo in area geograficamente svantaggiata, e poi la riaportura di servizi ospedalieri per acuti nelle strutture già chiuse, ossia Fossombrone, Cagli e Sasso Corvaro. Noi vogliamo condividere con i consigli comunali dell'intera provincia, ma vorrei estendere questa battaglia all'intera regione, per fermare l'attuazione di questo piano sanitario che sta smantellando la sanità pubblica, soprattutto nell'entroterra, ma oggi vediamo anche nella costa. Quindi è un appello che faccio a tutti i consiglieri comunali di intervenire in questa battaglia prima che sia tardi, di intervenire quando il proprio sindaco è debole o assente in questa battaglia anche in sostituzione del proprio sindaco.